Buongiorno clan, siamo al 21 di ottobre e la runa per il giorno di oggi è Lagus nella sua posizione invertita, in disequilibrio. Lagus è la runa delle emozioni, associata con l'acqua, con le maree, quindi anche con la luna in un certo senso. Ciò che la runa ci vuole dire oggi nella sua posizione in disequilibrio è che troveremo difficoltà a comprendere i messaggi che ci arrivano dalla nostra intuizione. Nel senso che scambieremo i messaggi del nostro ego, quindi che vengono dalla nostra mente per i messaggi della nostra anima, quindi che vengono da un piano più elevato, più spirituale, quello della intuizione. Da cui oggi saremo completamente disconnessi. Quindi se sentite di dover fare qualche lavoro intuitivo, non lo fate oggi. In linea generale ci sarà una resistenza a fluire con la vita e con quello che la vita ci presenterà nella giornata di domani. Il consiglio, come sempre, è quello nel momento in cui succedono cose che escono dal nostro controllo, semplicemente prendere un respiro profondo, cercare di tornare a centrarci su noi stessi e accettare le situazioni per quello che sono. Uscendo da tutte quelle che sono le nostre aspettative, quindi tutta la parte mentale, la parte dell'ego, per effettivamente tornare a cercare quantomeno di calmarci nella giornata di oggi. Possiamo aiutarci con lo stada della runa. In piedi portiamo le nostre braccia in avanti e che stanno a 45 gradi dal nostro corpo. Con le palme delle mani che guardano verso il nostro corpo e la punta delle dita che guarda verso la terra. A questo punto portiamo il mento leggermente verso il nostro petto e saliamo sulla punta dei nostri piedi. A questo punto sentiamo come l'energia entra dalla punta dei nostri piedi, sale attraverso il nostro corpo per fermarsi nel chakra del cuore. Lì inizia una depurazione di tutte le emozioni che sono racchiuse all'interno del chakra. Quindi sentiamo come questa energia va depurando, purificando le nostre emozioni. e dal chakra del cuore attraverso le braccia e poi giù per le dita riscende questa energia verso la terra. In un circuito di purificazione sentiamo semplicemente rimaniamo in posizione e sentiamo come mano a mano che questo circuito si autoalimenta le nostre emozioni si vanno purificando, si vanno prendendo accezioni più positive e sentiamo di poterci finalmente tornare a connettere con la nostra intuizione. Possiamo aggiungere il Galdrara che è La Grazie per aver ascoltato il messaggio di oggi. Ci sentiamo domani con un nuovo messaggio, una nuova runa e delle nuove energie. E ricorda, accendi la tua luce.